La gestione delle caratteristiche articoli consente di associare ad ogni articolo un elenco di caratteristiche o valori. Questa funzionalità è molto utile ad esempio per la gestione delle schede tecniche dei prodotti come possiamo notare all'interno di una pagina articolo di un sito e-commerce ready pro o all'interno di un'inserzione ebay. Per prima cosa è necessario attivare le apposite opzioni nella tabella impostazioni azienda. L'opzione attiva gestione caratteristiche articoli per categoria consente di inserire una serie di caratteristiche alla categoria principale dell'articolo e per ogni articolo di quella categoria di inserire dei valori specifici. L'opzione attiva gestione caratteristiche articoli permette di inserire una serie di caratteristiche diversificate articolo per articolo. Per utilizzare la gestione delle caratteristiche per categoria occorre innanzitutto definire la struttura delle caratteristiche nella tabella delle categorie articoli. Modificando ad esempio la sottocategoria laser possiamo creare un numero illimitato di caratteristiche. Inseriamo la descrizione di una caratteristica ad esempio velocità di stampa. Come si nota nella tabella di selezione tipo possiamo scegliere tra alcuni formati campo preimpostati. Nel nostro esempio scegliamo il campo di tipo testo che ci permette di inserire lettere e numeri. Per la caratteristica formato stampa andiamo ad impostare il tipo campo selezionato da lista fissa comprendente valori preimpostati. In questo caso Reedy Pro ci fa accedere all'interno di una finestra dove possiamo inserire i valori che compongono la nostra lista fissa ad esempio i formati di stampa A4, B5 ecc. Infine inseriamo un campo con la descrizione risoluzione di tipo numerico che ci permette di inserire solo numeri. Terminata l'impostazione delle caratteristiche per categoria visualizziamo l'anagrafica di un articolo corrispondente alla categoria stampanti laser ed inseriamo i valori nei relativi campi delle caratteristiche di categoria. Se si dispone di articoli per i quali non è facile standardizzare un elenco di caratteristiche come quelle per categoria è possibile utilizzare la gestione delle caratteristiche specifiche per articolo. Con il pulsante aggiungi è possibile inserire le caratteristiche aggiuntive ovvero una descrizione e un valore alfanumerici per ogni caratteristica. Nel nostro caso abbiamo scelto di inserire caratteristiche specifiche per l'articolo come il tipo e la velocità del processore. Una volta configurate sul gestionale le caratteristiche articolo possono essere visualizzate all'interno di una scheda prodotto di un sito e-commerce READY PRO. Per attivare la visualizzazione delle caratteristiche dalla gestione template contenuti nella sezione impostazioni articoli abilitiamo la relativa impostazione all'interno della scheda articolo. Vi è la possibilità di integrare automaticamente una tabella con le caratteristiche all'interno delle inserzioni ebay. Per chi utilizza il template ebay wonder fornito gratuitamente con il gateway ebay di READY PRO è prevista un'opzione specifica che consente di attivare le schede caratteristiche all'interno delle inserzioni.